Un nuovo percorso condiviso sul quale vigilare attentamente per superare una volta per tutte il vecchio concetto di ospedale ed arrivare a realizzare per Trani e la sua comunità un presidio territoriale di assistenza moderno ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze diagnostiche e terapeutiche dell'intera provincia BAT. E' quello definito tra il direttore generale della ASLBT, Alessandro Deledonne, il consigliere regionale Mimmo Santorsola e il sindaco Amedeo Bottaro, dopo le polemiche sorte negli scorsi giorni, a seguito di alcune disposizioni di servizio che, secondo le accuse più velenose circolate anche sui social, penalizzerebbero l'offerta sanitaria tranese a vantaggio di quella bicegliese. Delle donne si è riso disponibili a sospendere i provvedimenti che avrebbero ridotto sensibilmente le ore di attività della guardia rianimatoria, della radiologia e del laboratorio di analisi, che quindi non subiranno variazioni e rimarranno operativi nelle 12 ore diurne. E' stata confermata la chiusura temporanea dell'ambulatorio di cardiologia ospedaliera per necessità organizzative urgenti, rimanendo comunque attiva la cardiologia convenzionata. Improrogabile, invece, per termini di legge, è il passaggio della gestione del punto di primo intervento agli operatori della postazione fissa del 118, che tratteranno in sede i pazienti con codice bianco e con codice verde e provvederanno al trasferimento dei pazienti più gravi presso gli ospedali delle altre città. Con la speranza, dicono Santorsola e Bottaro, che possa realizzarsi quel progetto sperimentale di potenziamento delle attività di emergenza urgenza nell'ex ospedale di Trani, di cui ha parlato il direttore del Dipartimento regionale Sanità Giancarlo Ruscitti, in un recente incontro svoltosi a Bari con una delegazione di consiglieri comunali di centrosinistra. Su quest'ultima iniziativa non sono mancate le polemiche politiche, con il consigliere regionale del PD Rugiro Mennia, che ha delegittimato la delegazione consigliare accusandola di sciacallaggio elettorale, e gli stessi Bottaro e Santorsola, che avrebbero preferito una maggiore condivisione delle finalità dell'incontro. Soddisfatto dal canto suo, il direttore generale dell'ASLBT, Alessandro Deledonne, che respinge al mittente le accuse di ridimensionamento della sanità tranise. Il day service chirurgico è attivo su quasi tutte le branche, sottolinea, mentre da circa 20 giorni è attivo l'arco sterile per la cura delle maculopatie, e a fine febbraio sarà operativa la risonanza magnetica. Sono state attivate inoltre procedure di mobilità per circa 100 dirigenti medici, di cui 31 anestesisti, parte dei quali saranno utilizzati proprio sul territorio. Anche a Trani, infatti, conclude delle donne, sarà disponibile il servizio di terapia del dolore, già presente ad Andrea Barletta e Biceglie.